Pronto? Pronto? Fin quando è giunta la tanto attesa notizia del funerale che si svolgerà oggi pomeriggio alle 19, in quella stessa piazza che ieri ha unito le generazioni nel nome di Pino. Inaspettata no, perché conosco l'affetto dei napoletani per Pino Daniele, però è unica, mai visto niente di simile, quindi è il segno più tangibile del legame profondissimo tra Napoli e Pino Daniele, tra i napoletani e Pino Daniele e quest'onda di ricordi, di commozioni e di emozioni deve durare per tanto tempo per ricordare Pino nel miglior modo possibile. Lui portava Napoli nel mondo, la musica di Napoli nel mondo, ha donato tanto e quindi noi dobbiamo ricordarlo nel miglior modo possibile. Una commozione infinita, l'orgoglio di essere napoletano e di essere concittadino di Pino Daniele, di aver conosciuto Pino da ragazzo e che ha accompagnato per sempre la mia vita come quella di tanti napoletani. Non lo dimenticheremo mai e lo ricorderemo alla grande, tutti insieme, con la famiglia, gli amici, gli artisti napoletani, il comune, tutti insieme. Questa è la piazza della musica, è la piazza del popolo, è la piazza delle emozioni, deve essere questo per sempre. Infatti noi faremo sicuramente qua un grande concerto per Pino, lo faremo sicuro, lo decideremo ovviamente insieme ai familiari, insieme agli amici più stretti, perché questo è il desiderio più grande che anche io, cioè fare insieme le cose. Ma questa piazza deve ricordare Pino come fu nell'81 e lo devono fare i suoi amici, gli artisti, i compagni di viaggio, i tanti artisti internazionali che hanno suonato con lui sound, blues, rock, jazz e lo si dovrà ricordare per sempre. Cioè quel giorno la musica deve fare il giro del mondo con le immagini di una musica di Pino e nessuno ci potrà dire di no, che lo faremo. La strada o una piazza è il minimo, ma si deve fare altro, perché credo si debba fare altro. Il suo sogno più grande era quello di aiutare i giovani talenti napoletani musicisti, gli ultimi colloqui ho avuto con lui erano questi, quello di poter suonare in piazza e suonare con i giovani napoletani, perciò bisogna fare questo. Le piazze e i vicoli di Napoli devono essere pieni di musica e della musica di Pino. La strada o una piazza, perciò bisogna fare questo.